Nei giorni scorsi la Digos della Questura di Torino, a seguito di un'articolata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica e diretta dalla Polizia di Prevenzione, ha eseguito diverse perquisizioni delegate con la collaborazione degli omologhi uffici di Varese, Pavia, Novare e Forlì, traendo in arresto, convalidato il 12 luglio con applicazione della misura cautelare in carcere, il cittadino italiano Fabio Delbergiolo, 60 anni, per la detenzione presso la propria abitazione di Galarate, di un ingente quantitativo di armi da guerra, tra cui fucili di assalto e mitra, e di armi comuni da sparo di provenienza per lo più austriaca, tedesca e statunitense. Nel medesimo contesto operativo, la Polizia di Stato ha sottoposto fermo di indiziato di delitto il cittadino svizzero Alessandro Michele Aloise Monti, 42 anni, e il cittadino italiano Fabio Amaglio Bernardi, 51 anni, entrambi responsabili di detenzione messa in commercio di un missile aria-aria matra in utilizzo alle forze armate del Qatar. L'attività di polizia giudiziaria, iniziata in luglio 2018, anche con l'attivazione di intercettazioni telefoniche e telematiche, tra origine dell'attività di alcuni combattenti italiani con ideologie oltransiste, evidenziatisi in passato per aver preso parte al conflitto armato nella regione ucraina del Donbass. Nell'ambito di tale attività sono stati riscontrati diversi contatti tra uno dei predetti miliziani e un esperto di armi, che proponeva l'acquisto, per conto terzi, di un missile, del quale venivano trasmesse anche alcune foto tramite WhatsApp. Gli ulteriori riscontri investigativi hanno consentito di individuare successivamente il vero intermediario della vendita, Fabio Delbergiolo, con precedenti di polizia, che dopo un'intensa attività investigativa, anche con pedinamenti, è stato sottoposto per acquisizione e tratto in arresto a seguito del rinvenimento all'interno della propria abitazione di un vero e proprio arsenale di armi da guerra e comuni da sparo illegalmente detenute, costituito da 9 fucili da guerra, una pistola metraliatrice da guerra Scorpion, 3 fucili da caccia, 7 pistole, 6 parti di armi da guerra, 20 baionette, 306 parti di armi da sparo, 831 munizionamento di vario calibro. All'interno dell'abitazione sono stati trovati anche diversi stemmi e cartelli con simbologie naziste. Subito dopo la prequisizione dell'abitazione del Bergiolo, ex funzionario doganale che nel 1998 era il fondatore dell'ex movimento MAC, Movimento di Azione Confederata, che promuoveva la libera vendita delle armi e candidatosi all'elezione al Senato nel 2001 nelle file di Forza Nuova, la Polizia di Stato di Torino si è recata nei pressi dell'aeroporto di Riva Nazano Terme, dove all'interno di un grande deposito ha trovato un involucro cilindrico di circa 4 metri, contenente un missile aria-aria di fabbricazione francese, della lunghezza di 3,54 metri, con indicazioni circa la provenienza delle forze armate del Qatar. Si è messo pertanto in sicurezza tutta l'area circostante al fine di consentire con le dovute precauzioni e cauteli l'intervento di personale altamente specializzato dell'esercito italiano che ha constatato che si trattava di un missile aria-aria privo di carica esplosiva, ma riarmabile da persone specializzate nel settore. Grazie ad alcuni approfondimenti investigativi è stata accertata la materiale di disponibilità del missile e dell'intero deposito in capo a Monti e Bernardi, entrambi con precedenti di polizia, sottoposti alle arresti domiciliari, i quali sono stati immediatamente localizzati in un hotel adiacente all'aeroporto di Forlì e sottoposti a fermo di indiziato di diritto da parte del personale della DIGUS di Torino, in collaborazione con l'omologo ufficio della questura di Forlì. Il deposito, contenente numerosissimo materiale militare, tra cui due contenitori lanciarazzi, è stato sottoposto a sequestro al fine di una più approfondita analisi delle strumentazioni. L'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Torino, è interessata alle procure di Forlì, Novara, Buso Arsizio, Pavia e le locali DIGUS delle Questure, che sono state diretta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Le indagini sono ancora in corso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.